cultura via ai bandi pluriennali festa del piemonte è iniziato il dibattito in aula antiriciclaggio il consiglio chiede che la sede sia a torino nuova edizione di consiglio news ben trovati cultura via ai bandi pluriennali l'aula ha approvato all'unanimità il programma triennale i nuovi bandi destinati al comparto cultura che partiranno entro il mese di luglio avranno per la prima volta durata pluriennale per consentire a enti e associazioni culturali del territorio di fare una programmazione di medio periodo e risparmiare sulle gestioni delle attività lo prevede il programma triennale per la cultura 2022 2024 presentato dall'assessore vittoria poggio e approvato all'unanimità dal consiglio regionale un piano triennale che dà l'opportunità da luglio della partenza dei bandi quindi associazioni no profit privati enti locali associazioni culturali possono partecipare su proposta del partito democratico nei bandi saranno previsti criteri di premialità per le realtà culturali che svolgeranno le loro attività all'interno dei beni confiscati alle mafie e sempre il gruppo pd ha ottenuto voto favorevole unanime ad un atto di indirizzo collegato a firma daniele valle che chiede alla regione di emanare i bandi nella prima metà dell'anno di abbreviare i tempi di erogazione dei contributi e di coinvolgere fin piemonte e gli istituti di credito piemontesi per anticipare le risorse regionali a enti e associazioni un buon lavoro l'abbiamo ovviamente approvato una grande novità andremo a valorizzare nei bandi chi nel mondo della cultura andrà a fare e sviluppare progetti su tutto il piemonte nei beni confiscati alle mafie è un ottimo punto di partenza per venire incontro a tutte quelle esigenze che sono state manifestate a questo settore durante la pandemia festa del piemonte al via e le dibattito in aula presentati da parte delle opposizioni circa 450 emendamenti una legge per valorizzare la storia del piemonte la sua cultura le sue identità i suoi simboli sono gli obiettivi del provvedimento che intende istituire la festa del piemonte primo firmatario il presidente del consiglio regionale stefano all'asia su cui si è tenuta in aula la discussione generale per celebrare la ricorrenza è stata scelta la data del 19 luglio anniversario della battaglia della sietta del 1747 in cui le truppe dei savoia respinsero l'attacco francese e che è considerata uno dei momenti fondanti dell'autonomia e dell'identità piemontese la legge coinvolge il centro gianni oberto istituito da una legge regionale nella definizione di un calendario di ricorrenze celebrative e ampia il numero degli enti che espongono la bandiera del piemonte in occasione di avvenimenti di particolare importanza locale o regionale l'intento è far riscoprire il piemonte ai piemontesi e anche dal fuori dai confini piemontesi per fare in modo di innescare quel sistema culturale turistico che può essere sicuramente un beneficio per tutto il piemonte a livello sociale livello economico relatore di opposizione marco grimaldi liberi uguali verdi a noi piacerebbe che questo piemonte venisse ricordato in un calendario molto più ampio per questo noi abbiamo presentato gli emendamenti per migliorare il testo l'aula ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia avvenuta domenica sulla marmolada in questi giorni un profondo senso di dolore ha accomunato l'opinione pubblica di tutta italia ha sottolineato il presidente dell'assemblea stefano all'asia lo stesso sentimento che ci accompagna oggi nell'espressione della più sincera vicinanza ai familiari delle persone scomparse ci occupiamo adesso di antiriciclaggio approvati due ordini del giorno che propongono il capoluogo piemontese come sede per la nuova authority dell'unione europea torino sia la sede della nuova autorità europea antiriciclaggio che avrà tra l'altro poteri di vigilanza di indagine e la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie nei confronti di enti creditizi e finanziari o di gruppi di enti creditizi o finanziari a chiederlo due atti di indirizzo approvati all'unanimità dall'aula il primo affirma diego sarno partito democratico impegna la giunta regionale a proporre torino come sede dell'amla e a illustrare la strategia che si intende attuare per assicurarsi il raggiungimento di tale obiettivo il secondo primo firmatario paolo ruzzo la forza italia e illustrato in aula da alessandra biletta forza italia esprime pieno sostegno al presidente della giunta regionale affinché la proposta di candidatura di torino come sede per l'autority ue sull'antiriciclaggio sia accolta realizzare un'indagine conoscitiva per comprendere i disagi psicologici e psichici causati alla popolazione piemontese dalla pandemia e l'obiettivo della mozione approvata all'unanimità dall'aula il primo firmatario alessandro stecco lega ha sottolineato come il covid ha provocato un'ondata di disagio che si declina in depressione ansia auto lesionismo colpendo in modo particolare donne e giovani senza risparmiare i bambini e gli anziani per questo è importante demandare alla quarta commissione lo svolgimento di indagini conoscitive per acquisire informazioni utili a comprendere come migliorare la situazione nelle dichiarazioni di voto sono intervenuti i consiglieri rossi partito democratico magliano moderati biletta forza italia grimaldi liberi uguali verdi frediani movimento 4 ottobre arriva a vercellotti fratelli d'italia che hanno espresso in modo unanime la necessità di intervenire con tempestività per conoscere nel dettaglio le conseguenze che ha avuto la pandemia all'interno della sfera emotiva e psichica delle persone un convegno nell'aula di palazzo lascaris ha analizzato l'impatto su salute e socialità e legalità di bullismo e cyber bullismo il bullismo è un fenomeno che danneggia non solo chi lo subisce ma anche chi lo compie e chi vi assiste per contrastarlo il primo passo che famiglie scuole e istituzioni devono fare e lavorare sulla prevenzione e il messaggio emerso nel corso del convegno bullismo e cyber bullismo impatto su salute socialità e legalità svoltosi nell'aula del consiglio regionale su iniziativa della commissione consigliare sanità e degli stati generali per la prevenzione e il benessere per approfondire tutti gli aspetti del fenomeno da quelli intimidatori con dannosi effetti psicologici a quelli di tutela legislativa e non solo mettiamo insieme i temi sociali legali e anche sociosanitari naturalmente legati a questa piaga che riguarda molto spesso appunto i giovani in età scolastica un momento importante di attenzione del consiglio regionale e della commissione sanità che è stata proponente in piemonte il deterioramento delle condizioni di benessere psicologico è particolarmente accentuato con indici che passano dal 68,5 nel 2019 al 66,8 nel 2021 inferiori rispetto alla media del nord ovest dell'italia su 80 mila giovani italiani ed europei un adolescente su quattro ha sintomi clinici di depressione e uno su cinque ha sintomi di ansia persistenti abbiamo bisogno di rafforzare alcuni progetti come in particolare il patentino sullo smartphone quest'anno ne sono stati erogati più di 13 mila e abbiamo bisogno di una regia interistituzionale che metta insieme quindi la regione l'università l'ufficio scolastico regionale la procura dei minori affinché su questi fenomeni ci sia uno sguardo condiviso e un'azione di progettazione che sia fatta in regia e non a singoli pezzettini al parco della tesoriera è andato in scena l'evento esistenze resistenti esistenze resistenti due serate al parco della tesoriera di torino organizzate dal comitato resistenza e costituzione del consiglio regionale del piemonte in collaborazione con arci valle susa pinerolo dedicate a franco sbragia e giovanni battisti poligrafici della stampa e vittime della lotta al regime fascista non è la prima volta che il comitato resistenza e costituzione organizza un momento dedicato a dei giovani partigiani si tratta di un un momento per ricordarli ma anche per l'occasione di coinvolgere le generazioni più giovani ed è per questo che abbiamo voluto farlo qua all'evergreen festival all'interno della tesoriera giovedì 30 giugno lo storico giovanni dell'una e il direttore del quotidiano la stampa massimo giannini moderati da emiliano paoletti direttore del polo del novecento hanno animato il dibattito intitolato 1922 2022 esistenze resistenti approfondendo il tema della marcia su roma del fascismo della resistenza e della memoria venerdì primo luglio è andato in scena il concerto di banda bardo e cisco una delle band più longeve del panorama musicale italiano con oltre 1500 concerti e più di 25 anni di attività insieme alla storica voce dei modena city ramblers per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del consiglio regionale del piemonte arrivederci